Il sociologo e docente universitario Francesco Pira ha pubblicato un nuovo libro, Piraterie, edito da Medinova. Si tratta di un'esplorazione sui social da leggere per sorridere e per riflettere. Per chi si è sentito sempre un po' pirata pubblicare un libro che si intitola Piraterie, che poi tra l'altro è la raccolta di un anno di rubriche sul quotidiano della Sicilia, è il massimo. Un po' giocato con il mio cognome, così come nella copertina ha giocato con il mio viso, dipingendomi come ottimo pirata Nicolò D'Alessandro, uno degli artisti più stimati della nostra regione, che tra l'altro domenicalmente firma i ritratti su Repubblica. Questo progetto editoriale accolto da Antonio Liotta, che ringrazio, avrà un suo fine benefico. Infatti tutti i diritti d'autore saranno devoluti, io non vedrò un euro, alla fondazione del Lions Club International per acquistare vaccini per i bambini. È una scelta abbastanza forte in un momento in cui le fake news sui vaccini stanno cambiando il nostro modo di vivere e di pensare, quindi è una scelta molto precisa. Nel libro ci sono episodi molto carini, il ragazzino che non riesce a partecipare al presepe vivente perché la mamma pretende che non debba fare il pastore ma almeno il remaggio. C'è il ragazzo universitario che deve tatuarsi una frase in latino e che chiede la consulenza alla professoressa e poi ci sono racconti di gruppi di WhatsApp delle mamme e della nostra varia umanità. Insomma vi consiglio di leggerlo e soprattutto vi chiedo di dirmi se un po' non vi ci ritrovate in quella che è la nostra quotidianità alle prese con gli smartphone, alle prese con i social, alle prese con il web.